Gemma Galgani ha trovato l'amore. La dama del trono over si è fidanzata con lui, lo conoscete benissimo, è famoso. La veterana del trono over ha trovato finalmente l'amore. Anche per lei dunque sembra essersi avverato il sogno che ha animato la sua partecipazione ad uomini e donne per lunghi anni. La 73enne infatti pare che stia vivendo un sogno ad occhi aperti, proprio con lui, un affascinante cavaliere che ha fatto breccia nel suo cuore. Dopo numerosi flop in ambito amoroso, finalmente per Gemma Galgani è arrivata la svolta tanto attesa. Secondo recenti indiscrezioni infatti, avrebbe trovato l'uomo della sua vita, un lui che con dedizione è disposto a darle presenza, sentimenti autentici e pathos. I suoi fan sono entusiasti, hanno infatti sperato a lungo che Gemma potesse vivere finalmente quelle emozioni di gioia che tanto agognava. L'uomo che l'ha conquistata ha partecipato alla passata stagione del dating show. Hanno imbastito una conoscenza che è però terminata presto, nonostante infatti avessero entrambi intenzione di portare avanti la frequentazione, una inaspettata incompatibilità caratteriale li ha allontanati. Gemma Galgani si è affidanzata con lui, lo conoscete tutti benissimo. A quanto pare però i sentimenti hanno prevalso dato che Pietro del Pozzo ha dichiarato alle pagine del magazine ufficiale di uomini e donne che non hanno mai smesso di tenersi in contatto. Noi ci stiamo già sentendo costantemente. Presto andrò a Torino, ha detto il Cavaliere. Una rivelazione che è giunta come un fulmine a ciel sereno per i fan di Gemma, soprattutto perché se la relazione tra loro dovesse continuare, Gemma sarebbe la grande assente della prossima edizione dal 2024 al 2025 di Uomini e Donne. Al momento la dama non ha detto nulla in merito, dunque non è dato sapere se tra loro si tratti di un'amicizia o di amore. Soltanto con il trascorrere del tempo sarà fatta chiarezza sulla vicenda, nel frattempo i telespettatori continuano a seguirla con spassionato interesse suoi social. Gemma è solita postare scatti e video che la riguardano ed, in vero, ad alcuni è parso strano che non abbia ancora parlato di Pietro del Pozzo e della loro presunta love story. Per questo motivo, i fan sospettano che per lei tratti di un'amicizia e, che sia il Cavaliere ad essere maggiormente coinvolto nei suoi riguardi. Sono però congetture, è infatti necessario attendere che la dama racconti come stanno le cose, per capire se tra loro è amore o meno.